Ho deciso di candidarmi perché ritengo che sia arrivato il momento di riscatare Este, perché ho vissuto tutta la mia infanzia qui a Este, oltre che essere nato qui e sono residente qui in centro, e l'ho vista cadere in un degrado estremo e sinceramente questa cosa fa molto male. Francesco Roina è il candidato del Movimento 5 Stelle alle prossime amministrative di Este, figura di spicco dell'ambientalismo della bassa padovana e la prima esperienza politica, anche se è sempre stato impegnato nella difesa del territorio. Ecco i punti fondamentali della sua campagna elettorale. Penso che sia doveroso rilanciare Este, non solo rilanciare il centro storico che è in massimo stato di degrado, perché noi qui in centro abbiamo contato 36 negozi chiusi senza tenere conto di quelli che sono in estremo stato di degrado. Il secondo punto è che bisogna ridare la dignità agli estensi, perché ci sono estensi che vivono in stato di povertà. Noi siamo intenzionati a riportare e a portare in este il reddito di cittadinanza. Oltre a questo il rilancio del turismo e poi l'operazione trasparenza sostenuta dal Movimento Grillino sarà il primo punto in agenda qualora Roin diventasse primo cittadino. Noi andremo a vederci tutta la documentazione in comune per vedere la situazione attuale qual è. Non facciamo apparentamenti con nessuno, proprio perché saremo ingessati per i prossimi 5 anni, perché non avremo mano libera per agire di conseguenza, perché Este prima di tutto è i suoi cittadini.